Io ho iniziato a frequentare la scuola di danza quando avevo circa otto anni, nove anni. Io non sono di Matera, vivo a Ferrandina, quindi ho iniziato lì facendo danza moderna. Poi mi sono fermata perché la scuola di danza chiuse e iniziai a fare altri sport. Poi all'età di 14 anni ho ripreso danza sempre nel mio paese ma non si studiava classico molto bene e quindi sono venuta a Matera. Io viaggio ogni giorno da tre anni più o meno, vengo a Matera, faccio le lezioni e torno a casa con il Pullman. Ho scelto questa scuola di danza prevalentemente perché c'era la danza classica, a differenza di altre scuole anche a Matera. Preferivo venire qui perché ne ho sentito parlare molto bene dagli altri, ho visto foto, video di tutte le cose che me ne aveva fatto e quindi sono venuta a Matera. Nell'ambito della danza ho vinto alcune borse di studio perché con me ne abbiamo fatto alcuni stage in diverse parti. Ho vinto tre borse di studio e nel frattempo comunque studiavo, andavo a scuola tutti i giorni, quindi mi sono diplomata e continuo comunque a venire qui. Io ho fatto un casting per un film e sono stata scelta come protagonista. Vorrei continuare e vorrei diventare un'insegnante. E poi magari vederti su palcoscenici sempre più importanti? Beh, si spera certo, ovviamente sì.